A sentire e a leggere le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, pare che tutto sia pronto per una riforma complessiva della scuola. A partire dal tema della dispersione scolastica, molto caro al ministro e su cui è ritornato in più circostanze, arrivando a dire persino che il problema della scuola sia che si bocci troppo. Il divario sulla dispersione scolastica, ha detto il ministro, è inaccettabile, ma c'è anche un altro divario. La nostra scuola non è rigorosa perché boccia troppo poco? No, la scuola ti mette la croce se non vai bene e ti fa disperdere, ti fa scomparire dall'orizzonte. E ha aggiunto, sono convinto che ci voglia l'eccellenza, però l'eccellenza parte dando a tutti le stesse opportunità. Viene in mente la famosa frase di Don Lorenzo Milani che in lettera ad una professoressa scriveva che per cambiare il sistema scolastico ci vogliono tre riforme. La prima non bocciare, la seconda a quelli che sembrano cretini dargli la scuola a tempo pieno, la terza agli svogliati basta dargli uno scopo. Don Lorenzo aggiungeva anche che è vero che talvolta agli insegnanti viene voglia di levarsi di torno i ragazzi più difficili, ma, aggiungeva, se si perde l'oro la scuola non è più la scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Certo è che la strada per fare in modo che la scuola, almeno quella dell'obbligo, promuova tutti in modo autentico, non basta non bocciare e mandare avanti tutti. È necessario che a scuola si lavori per fornire ai ragazzi vere competenze di cittadinanza, dalla capacità di comunicare fino a quella di interpretare correttamente la realtà e, perché no, per scoprire insieme le modalità per cambiare la realtà se essa non risponde ai principi della nostra carta costituzionale. Bisogna anche aggiungere che su come intervenire sul sistema scolastico per renderlo più equo e più rispondente ai cambiamenti sociali ci sono idee diverse, anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Proprio in questi giorni il segretario del PD Enrico Letta è intervenuto sulla questione della uscita dal percorso scolastico che dovrebbe avvenire non più a 19 anni, come oggi, ma a 18. Su come ottenere questo risultato non è però ancora molto chiaro. C'è chi parla di accorciare di un anno la secondaria di secondo grado e chi pensa invece di anticipare di un anno l'obbligo scolastico. In ogni caso si tratta di interventi urgenti perché, come è emerso anche nel corso del G20 svoltosi qualche giorno fa a Catania, il nostro paese è ancora ben lontano dagli obiettivi fissati dall'Europa in fatto di riduzione dell'abbandono scolastico. E non è un caso che in Italia è molto bassa rispetto ad altri paesi la percentuale di laureati. Tutte questioni riguardanti la spendibilità della scuola, degli studi sul fronte del lavoro. Un tema su cui è intervenuto anche il Ministro del Lavoro Andrea Orlando dichiarando tra studio, lavoro e formazione i confini saranno sempre più sfumati. Ecco perché la decisione plastica di tenere insieme il Ministero dell'Istruzione e quello del Lavoro al G20 di Catania. Certo è che la strada per una riforma complessiva del sistema scolastico è tutta in salita e ci vorrà molto tempo per arrivare ad un risultato condiviso fra le forze politiche e sindacali. È un tema ovviamente di grande attualità su cui noi continueremo a tenervi informati. Seguiteci quindi su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.